Senti mamma, qui bisogna discutere un problema, quando prendi la macchina tutte le volte fai dei danni e non va mica bene. Ieri per esempio hai schiacciato la bicicletta del vicino, la scorsa settimana hai sfondato la recinzione, due settimane fa hai rotto il portone. Cosa ci devo fare? Tutte le volte dal carrossiero sono 1000 euro, 1500 euro, sai cosa ti dico? Bisognerà che tu compri una macchina più piccola, una smart. Metti via la Mercedes, prendi la smart, è l'unica, anzi forse è meglio che tu ti prenda una bicicletta elettrica, con la bicicletta elettrica ci metti un bel cestino, fai la spesa col tuo cestino, che ne dici mamma eh? La bella bicicletta elettrica, e sei a posto. Eh veramente la bicicletta elettrica non mi piace mica tanto, io stavo bene. Ma vai dai, prendi la bici che è meglio, impari subito. Ma no, va là, io preferisco la Mercedes invece. Ma dai, che te ne fa? Tutto così grossa. Ma io poi con la bicicletta elettrica come faccio? Non c'ho neanche la corrente. Te la carico io no? Non ci sono problemi. Ehi, man.